Parte da Civitella in Val di Chiana il tour dei comuni del territorio di Arezzo e Siena del nuovo format di TSD Un Sindaco a Bordo, realizzato dall'emittente di Piazza San Domenico e sostenuto dalla Regione Toscana. Giovedì 25 febbraio dal Teatro Moderno di Tegoleto, a partire dalle 21 e 20, comincerà la diretta di due ore del talk show condotto da Luca Primavera, con la regia di Rossano Corsi e Michele Francalanci. Ospiti della serata, il sindaco di Civitella in Val di Chiana, Ginetta Menchetti, Yasmina Santini, preside dell'Istituto Comprensivo Martiri di Civitella e Marco Pierozzi della condotta Slow Food Val di Chiana. Nel corso della trasmissione verranno proposti i contributi video con le immagini e le testimonianze che le telecamere di TSD hanno girato nel territorio di Civitella, dove il sindaco, a bordo di un minivan, ha accompagnato la troupe di TSD. A partire dalla chiacchierata sulle eccellenze, la storia e i protagonisti del comune, il pubblico potrà poi intervenire ponendo le proprie domande al primo cittadino. Oltre che sul canale 85 del Digitale Terrestre, sarà possibile seguire la diretta della serata anche in streaming all'indirizzo www.tsdtv.it slash live, oppure partecipando come pubblico nel luogo del comune, dove di volta in volta si svolgerà l'evento. Dopo la messa in onda, tutte le puntate saranno disponibili sul sito www.tsdtv.it e sul canale YouTube TSD Comunicazioni. Gli appuntamenti con un sindaco a bordo continueranno ogni giovedì alle 21.20 sul canale 85 con altre 19 puntate, mentre ogni sabato alle 21.25 andrà in onda in maniera integrale il reportage realizzato dalla nostra emittente.